buongiorno ragazzi domenica siamo in via bovio guardate da dove deve camminare la gente guardate e voglio fare video foto qui mai nessuno manderà un controllo in una bari per bene qui ogni giorno sembra la stessa canzone vedete oggi è domenica dovrebbe esserci il vieto di conferimento i cassonetti sono l'uno stanno già pieni cartone per terra e voglio dire guardate 10 fototroppi stanno in da bar 10 anzi no adesso sei due stanno rotto e cazzo che non si mette una fototroppi da una fototroppi anni 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 e anni è stata fanguccia ma c'è da vero è una schifo